Dove sta andando la televisione? Come sta mutando il nostro linguaggio, il nostro gusto? E non è cosa da poco, se pensate che il successo per esempio di molta politica è stato costruito sulla televisione, anzi si costruisce sulla televisione. Abbiamo una persona che è un'icona pop della televisione, è una persona che mi ha accolto in Mediaset un anno fa quando sono arrivato, è una persona che il suo camerino è un appendice della sua casa. Ci sono due milioni e mezzo di italiani che la seguono tutti i giorni, ma non fa solo televisione, scrive libri, ha un blog, adesso ha addirittura aperto un mensile, B Magazine, 80.000 copie, primo numero, Barbara D'Urso. Sei un personaggio molto polietrico, internet, il blog, la televisione, la televisione lei fa un programma tutti i giorni pomeriggio, la domenica, tu vivi in Mediaset, la giornata in Mediaset a Colonia Monzese, dove ci sono qualche decina di studi, si inizia la mattina, lei nelle interviste dice, no ma io sono sempre struccata, sono una donna come voi, allora io ho avuto qualche dubbio, poi ho visto la mattina, perché noi abbiamo l'ufficio allo stesso piano, che lei arriva verso le 10, in tutta la ginnastica, struccata, occhiali scuri, e dal suo volto capisco come è andato il giorno prima, perché ha appena avuto i dati di ascolto. E adesso hai fatto un mensile che si chiama B Magazine, che è arrivato al terzo numero, da tre anni ci pensate di fare questo mensile. Perché è un po' un sogno, no? Io in realtà mi sento carmelita, mi sento bambina, tutti abbiamo dei sogni, parlavamo prima a tavola anche a proposito dei tuoi figli, delle favole, no? Di quanto è importante. Anche i miei figli ho lasciato loro, che seguissero il loro sogno. Questo era uno dei miei sogni, cioè di poter fare un mensile, un magazine, parlare in un altro modo con la gente rispetto alla televisione, rispetto ai social network, e parlare attraverso la carta stampata in un momento in cui è un momento, scusate il gioco di parole, è un momento nel quale è un po' complicato per l'editoria. Mi ha colpito un fatto. Tu entri nella casa di due milioni e mezzo di italiani tuoi, diciamo, fedelissimi. Per loro tu sei un'amica, cioè sei una compagnia in casa. E quindi ti chiedono consigli, suggerimenti. In effetti la televisione, io la conosco da poco, però lo dico anche con magari un po' di ingenuità, ti porta, tu che sei dall'altra parte, che sei davanti alle telecamere, ti porta per i telespettatori a essere una compagnia fissa, a essere quasi un mezzo parente. Ogni giorno quante persone ti iscrivono? Mi scrivono mail? Tantissime. Sono centinaia e centinaia. E tu hai deciso questo magazine per rispondere a loro praticamente? Io rispondo a loro in televisione, però a loro rispondo in maniera diversa e cerco anche di coinvolgerli nel mio modo di essere. E come sei, Barbara? Perché la cosa che mi sorprende di più è quando io vado in giro per la strada, tu lo sai, tutti quelli che mi fermano, poi siccome io non faccio la vita da star, che sto chiusa nella villa, vado solamente alle feste mondane, eccetera, io sono normale, vado al supermercato, vado in farmacia, vado in giro con la tuta struccata, mi fermano e mi dicono questa cosa meravigliosa, ma agghiacciante, mi dicono, madonna mia Barbara, ma come fai? Ma sei molto più bella dal vivo che in televisione. E quindi lì c'è o che in televisione sono un cesso pazzesco, si può dire cesso a ponza, sì. Sì, sì, si può dire. O sono un mostro, oppure, non so, evidentemente, dal vivo riesco al naturale, non essendo ancora, ancora, andata da un chirurgo a essere... Ma perché ce l'hai qua con le donne che vanno dal chirurgo? Ma io non ce l'ho qua. Sì, ogni volta lo dici. Ma non è vero. No, ce l'ho qua quando dicono che ho le zizzeri fatte, quando invece sono le mie. Scusa, eh. Però quelli che sono... E come da te dicessero, mamma mia, ma quanto sei bello, c'è un naso bellissimo, peccato che te lo sei rifatto. E tu dici, no, scusa, quello è il naso è mio. E quelle le zizzeri sono le mie. E quando dicono scusa, no? Quando mi dicono che sono finte, io ci mi vengo male. Tu hai detto, una volta hai detto, il successo è il grande amplificatore di ciò che sei. Sì. Il successo in televisione. Sì. Ma è in tutti i tipi di successo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il successo televisivo, ma non solo televisivo, in qualunque campo, io sono convinta che come quella cassa lì, no? Io sto parlando e riesco a superare anche questa purtroppo brutta sirena che lascerei passare anche perché sicuramente non è... Sperando che sia solo un piccolo malore di qualcuno. Quella cassa amplifica la mia voce. E se la mia voce... Eh, tutta quanta titola? Quella amplifica una brutta voce. Cioè, se ho una voce carina o gradevole, quella l'amplifica. Io credo che il successo sia quello. Cioè, ognuno di noi ha una base. Quindi, quando hai successo, se sei un cretino, quando hai successo diventi un grandissimo cretino. Proprio un cretinissimo. Se sei un egoista, hai successo, diventi tirchio. Se sei una persona carina, semplice, il successo credo che amplifichi anche le tue parti positive. Come si mantiene questa normalità, pur avendo questa grandissima esposizione? Ma perché... Perché ti rendi conto che quello che fai... Cioè, io non faccio operazioni a cuore aperto tutti i giorni, capito? Io non salvo le vite. Io non faccio la volontaria. Io faccio televisione. Cerco di farlo, nonostante, insomma, a volte ci riesco, a volte no. A fare anche delle cose positive. Cose positive per le donne, per le persone che cercano lavoro, per le persone... Cerco nel mio piccolo. Però mi rendo conto che, ah, sono fortunata. Secondo, e non è che sto facendo chissà questa cosa pazzesca. Cioè, rimango quella che sono. Da settembre riparti con i tuoi programmi. Il pomeriggio ci sarà Cristina Parodi e Marco Liorni su Rai 1. Noi facciamo un percorso senza sfidare nessuno. Barbara D'Urso. Sono dei grandi professionisti, ma ho paura. Però quando si vince, si vince. O no? Sì, ma le cose possono viaggiare in maniera complementare comunque. Perché sono due grandi professionisti. Poi Marco, insomma, lo conosco bene perché era l'inviato, quando io conducevo il grande fratello, è stato il primo inviato, no? Ma quando ti mandavi messaggi con Cristina Parodi e quando lavoravo sulla sette? Sì. Gli sms, che vi scrivevate? Beh, insomma, io stimo molto Cristina. Siamo completamente diverse. Eh sì. E quindi, insomma, anche caratterialmente. Quindi, sicuramente saranno due tipi di trasmissioni diverse. Perché io sono questa, Cristina, ripeto, ha un altro carattere. A me piace molto. Lei, grande professionista, scriviamo delle cose carine e continueremo a scrivercene. Ma se tu lo facessi... E quindi ho paura perché sono molto bravi tutte e due. E loro sono due e io sono una. Quindi... Ma nel gioco della torre, tra la Perego e la Bignardi, che batteresti giù? E dunque, è una risposta alla quale posso rispondere in maniera facile. Come vuoi? Sì, perché Daria Bignardi la conosco molto bene, la frequento anche. Ci scriviamo, insomma, ci vediamo ogni tanto. Invece con Paola Perego no. Per cui, se proprio devo, è necessario, ribadisco, se per caso poi domani sui giornali scrivessero, la D'Urso ha detto che butterebbe dalla torre la Perego no. Se dovessi essere costrettissima al mondo, salverei Daria perché l'ho sentita 15 giorni fa. Prima delle ultime votazioni hai intervistato Matteo Renzi e Berlusconi. Sì. Chi butteresti dalla torre? No. No. La domanda è un'altra. Chi butteresti dalla torre? No, non mi vuoi copiare le D'Urso interviste. Quella l'ho per chiestare io. Eh? No. Guarda, nessuno dei due, ma sai perché? Sì, Renzi lo chiami Matteo, non lo chiami Renzi, perché? È perché si chiama Matteo. Sì, ma hai avuto un feeling, che impressione hai avuto di quest'uomo? Guarda, grandissimo comunicatore, quando è venuto in trasmissione da me mi ha ricordato Berlusconi a 40 anni, che io conosco molto bene perché ho iniziato a lavorare con lui quando aveva 40 anni, e anche un po' di meno, quindi... Cioè hai rivisto Berlusconi in qualche modo? Beh, sì, sì, sì. Ma non che adesso Berlusconi non lo sia, perché come avete visto, insomma... Quindi avremo per vent'anni Renzi? Avremo per vent'anni Renzi e avremo per vent'anni anche Berlusconi. Berlusconi? Cosa vorresti, televisivamente parlando? Ma guarda, una cosa... Ancora non ho fatto una cosa, ma essendo io molto giovane adesso non sono ancora pronta, perché mi piacerebbe, lo farò, ma quando avrò l'età giusta condurre il Festival di Sanremo. Poi hai detto una volta, hai detto, vorrei intervistare o il Papa e Marina Berlusconi. Sì. Si assomigliano? Perché no? È perché ne hai messo uno dopo l'altro, hai messo il Papa. Perché no? Marina Berlusconi e Agnese la moglie di Renzi. Perché no? Agnese non la conosco, Marina la conosco molto bene, il Papa non lo conosco, lo conosco come tutti gli italiani, è uno dei miei sogni a incontrarlo. Perché no sempre? Marina, per quello che conosco io, insomma, è una donna molto forte e anche molto fragile, come tutte le donne vere. Io televisivamente sono veramente molto, molto appagato. Per due motivi. Primo, perché l'azienda nella quale io lavoro ho una continua quotidiana riconoscenza, ma non stiamo parlando economica, perché il momento lo sappiamo tutti, è veramente superfluo anche parlarne, non è quello. È veramente una riconoscenza proprio di amore, è reciproca. Io ormai faccio parte di questa azienda. Però non farei l'Isola dei Famosi. Che ne so, non lo so. Chi può dirlo? Barbara D'Urso! Gianluigi Nuzzi! Rimani qua con noi! Rimani con noi, Barbara! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.